If I am crazy Eeeh, salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qua insieme a Omika Ciao E Dani Ciao Oggi volevamo presentare sia il TS Sia la Comindi Giusto raga? Si Allora, qui dove siamo ci stanno Eeeh, la gestione Che i founder siamo Io e Artemi Poi Andiamo avanti Qui c'è la stanza Il founder mio sarà temporaneo Perché ancora d'acqua sistemate le cose Perché abbiamo cambiato un po' il design Infatti nemmeno la grafica Qua a destra sta Purtroppo ancora ci deve arrivare E quindi Stiamo così Stiamo accroccati un po' Sì, ancora stiamo in manutenzione Il TS Quindi ora ve lo presentiamo Chi vuole entrare può entrare tranquillamente Non ci sono commenti Poi andiamo avanti Stanza in manutenzione È di Matteo Che Questa qua Sì È qua Sì Il capo admin Che sarà Omega So io E sta qua l'ufficio Poi Ci stanno le stanze da admin Admin So questi qua Questo so Ce ne stanno Due In una stanza Perché tanto sono fidanzati Quindi Non se li dicono Alla stanza No Io no I moderatori Qui c'è Michael Dani Dani che sta con noi adesso Sì Tommy e Damix Qui raga Se L'avete notato Sotto Ogni stanze C'è Sala d'attesa Poi c'è Sala d'attesa Aspetta Aspetta Sala Fammi capire pure a me Do stanno Un attimo Sala d'attesa Stanno Sia sotto A ufficio Max Barber E D'Ateni Sì Ok Quelle là Servono per Per chi vuole entrare Nelle nostre stanze Voi vi mettete qua Ora vi faccio vedere Arrivo subito Scusi Ecco Dicevo E noi Vi spostiamo Tranquillamente Ok Poi Andiamo avanti Qui ci stanno L'area Riunione Ci stanno Le riunioni Dei staff E qui c'è pure Il salotto Per chi vuole entrare Per chi chiacchiera De solito La La gente pubblica Sta più in pubblica O Ce la spostiamo Su Noi Si tocca giocare Sì In Instanze private Instanze private O Con calma Sì Poi Andiamo avanti Ci sta L'area assistenza Che Per chi vuole entrare Ora chiedo a Andoga Se C'ha un altro bot Qui appena entrate In una stanza Pesa assistenza Noi A noi Staffer Ci manderà Un po' In cui dirà Che Tizio Caio Serve Assistenza Noi verremo giù E vi aiuteremo In qualsiasi cosa Giusto Omega Ovviamente Poi Qui stanno C'è l'orario L'orario Stamma registrato Stasera Però Quelli Sono dettagli Questo è il benvenuti C'è la FK Poi c'è il regolamento Che ancora dobbiamo sistemare C'è la FK E poi c'è il telegram channel Che stiamo finendo di creare Tutte le cose Poi ci stanno le varie pubbliche Ci stanno le varie pubbliche Aria musica Che Adesso non c'è il bot No si c'è ecco il bot Il bot sta qua Ok c'è il bot Ma ancora lo dobbiamo settare C'è da settarlo Aria game GTA CSGO Farming Eurotrack Minecraft Rocket League E Tanti altri Ci saranno Più in là Ok Qua c'è una funzione Molto Bella Per voi Udenti Cioè che Se entrate là Il bot Fa la stanza da sola Fai giù E spiegaglielo Come fare Ecco Questo è il bot Che Entri qua E ti fa una stanza Sotto E poi C'è il channel Andrime dentro la tua stanza E Poi fa quello Può invitare amici A giocare E Sta in pace A fare le sessioni del gioco Tranquillamente Senza che nessuno Dei rompere le scatole Ci spostiamo sopra Per fare altre cose E E continuiamo Poi ragazzi Vi volevamo presentare Un pochino La community Allora Questa community Si presenta come Ehm Area da gaming Tipo Noi giochiamo Di solito A Sia CSGO Farming Rocket League Tantissimi altri giochi Ci stanno Quindi se voi volete Venire a giocare con noi Abbiamo pure Il canale di telegram Abbiamo La pagina facebook Quindi per chi vuole venire A vedere la community Può venire tranquillamente Chi vuole venire in PS I posti Ci stanno Perché Se Omega Clicca in alto Su Agri Italia Community Se vedete Qua c'è scritto 500 Però si possono cambiare Pure a 250 Come era De nativo 250 posti Eh Ci stanno 250 posti Però Noi Ora Abbiamo chiesto Al capo Se ce ne poteva Mettere 500 Quindi Comunque Il server E' attivo Da 9 giorni Perché Avevamo fatto Sta modifica Che L'avevamo aggiornato Insomma Quindi Per chi vuole venire Qui Tranquillamente Ci stanno Le stanze Per giocare Per Sentirci Con gli altri Amici Per chi vuole venire Qui c'è posto Ok ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Vi invito A lasciare Like Iscrivervi Al canale Commentate In descrizione Vi lascio Canale Di Omega Canale Titani E Link L'IP DTS Link Di Facebook Della pagina Facebook E link Del canale Telegram Perché abbiamo pure Instagram Quindi Vi lascio pure Il nome di Instagram E niente Ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Ciao Vi aspettiamo qua Ciao Ciao Ciao